ciao bentornati a mia stanza e oggi come ogni mese è arrivato il giorno in cui dobbiamo parlare di quel che è accaduto a marzo in questo caso incominciamo subito con l'outfit del mese ed è quello che indosso che adesso vi farò vedere alla prossima categoria che non mi dilungherò perché è il capo d'abbigliamento di questo mese ed è il vestito praticamente che indosso perché lo sto usando spessissimo perché lo adoro è semplicemente stupendo e mi piace un sacco quindi non aggiungo altro anche perché ho fatto una recensione su questo vestito quindi se volete andare a vedere e vi metto il link qua sotto la prossima categoria è la categoria makeup e questo mese vi vorrei parlare di questo eyeliner che è della wet and wild h2o proof e praticamente dice che è un eyeliner waterproof questo è marrone però non nel senso non mi spi... cioè è carino perché è marrone perché appunto ne volevo uno marrone però non è troppo bello ecco vabbè l'ho pagato pochissimo perché la wet and wild è abbastanza economica però oltretutto non mi piace il fatto che ha diciamo uno scovolino abbastanza duro quindi come stendete il prodotto praticamente rimane la riga in cui praticamente il pennellino toglie il prodotto che ha appena messo quindi non mi piace particolarmente e non penso sia waterproof perché l'ho usato diciamo nella nell'arco di quattro ore comunque non non era più perfetto come all'inizio e non era non è praticamente quello a cui sono abituata io con gli eyeliner perché quello che uso è praticamente indistruttibile quindi insomma non ne sono troppo contenta anche se l'ho pagato qualcosa come quattro euro quindi vale quel che l'ho pagato praticamente poi l'altro categoria no scusate non l'altra categoria l'altro prodotto è un burro cacao la volta scorsa abbiamo parlato di quello dell'erbolario che però non mi era piaciuto moltissimo e allora ho trovato quest'altro che praticamente della neutrogena quindi formula non vervegese con bacche nordiche eccetera eccetera e queste per pelli per labbra secche ed è bellissimo cioè io sono andata a letto ho messo questo e il giorno dopo avevo le labbra ancora idratate quindi praticamente io lo sto amando alla follia oltretutto ha un odore di non troppo forte quindi è molto delicato io mi piace un sacco quindi penso tipo lo ricomprerò a valangate questo prodotto è consigliatissimo quindi se lo trovate prendetelo anche perché questo non se non sbaglio costa 3 euro e 90 o comunque si aggira intorno ai 4 euro mentre quello dell'erbolario dell'altra volta avevo pagato tipo mi sa che costa sui 5 euro e qualcosa quindi pagate leggermente di meno è comunque la qualità è superiore perché è neutrogena ovviamente poi diciamo l'accessorio non è proprio un accessorio accessorio però comunque sono un paio di ciglia finte e così sono della essence io ho sempre più mi sono sempre piaciute le ciglia finte della essence e anche perché mi piace un sacco la loro colla perché attacca benissimo e dura a lungo e soprattutto si asciuga in fretta cosa che con quella della che si compra la mac come si chiama la pro duo non succede proprio spessissimo comunque queste sono le ciglia sono super naturali e oltretutto c'è un sacco che abbiano la praticamente non si vede la la riga dove sono attaccate perché è trasparente quindi io li ho messi anche senza eyeliner e non si vedevano praticamente quindi mi sono mi piacciono un sacco e queste sono le numero 5 natural effett lashes sono davvero bellissime poi per quello che costano sapete che la essence costa davvero poco quindi compratele se trovate passiamo direttamente ai manga proprio saltiamo le altre categorie perché questo mese non non ho niente né anime né film né niente quindi ho letto un sacco due manga questo è one pound gospel è un sacco carino fa un sacco ridere perché parla praticamente di un pugile che praticamente non riesce a seguire la dieta e quindi sta sempre mangiando sempre mangiando e sino ora di una suora non di una suora ma sì una suora che deve ancora prendere i voti in realtà e quindi un sacco carino fa un sacco ridere questo però se non sbaglio abbastanza vecchio è del non c'è scritto perfetto del 98 ecco quindi è dello stesso autore di se non sbaglio mesonikoku e quindi comunque di rumiko takashi quindi se sapete chi è consigliato se lo trovate più che altro questi mi sono stati prestati da una mia amica e l'altro è questo che si chiama sole maledetto e non è un vero e proprio manga è un volume unico che comprende delle piccole storie anche questo è un sacco carino e le storie sono abbastanza veloci quindi è come una toccata e fuga quindi è abbastanza carino e veloce da leggere la prossima categoria sono i libri questo mese ho iniziato alice nel paese delle meraviglie la versione integrale e personalmente lo trovo molto più carino rispetto anche a quanto possa essere carino il cartone animato della disney perché alice è molto particolare ancora più particolare del cartone infatti parla spessissimo da sola soffre di secondo me di doppia personalità perché comunque cioè parla da sola ad esempio si incoraggia a fare cose proprio a voce alta quindi è un sacco carino molto più carino di quello che pensassi e quindi consigliatissimo anche questo se non l'avete ancora letto fatelo perché è un delirio come scritto cioè è carinissimo poi siamo già arrivati alla fine perché se non sbaglio non ho nient'altro siamo alle ultime tre categorie sì a questo mese ho aggiunto anche una categoria in più ovvero la categoria la canzone del mese perché mi sono sono entrata in fissa con l'opening di kiseiju l'ospite indesiderato come lo volete chiamare quello e adesso sta passando in sottofondo probabilmente quindi vi metterò anche il link a un video dove si sente bene è un sacco carina e mi piace un sacco soprattutto ad esempio per fare ginnastica è bellissima perché è veloce e ha quel non so che ti ispira che ti convince a fare ginnastica quindi mi piace un sacco poi prossima categoria è il dolce del mese questo dolce è una semplice torta allo yogurt che ho fatto ed è mia città davvero buonissima era alta soffice buonissima praticamente quindi sono un sacco contenta e arrivati all'ultima categoria la categoria di questo mese è l'ultima il canale e si chiama clairedelisse.com vi metterò ovviamente come sempre il link qua sotto e se non sbaglio è tutto questo mese è stato velocissimo flash ho pochissime cose di cui parlarvi speriamo che il prossimo sia migliore e io vi auguro buona Pasqua perché non ci vedremo fino a Pasqua sempre che riesco a caricare questo video prima di Pasqua e spero che mangiate un sacco di cioccolato e un sacco di schifezze perché siate contenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao